Un bilancio più che positivo è quello tracciato oggi nel corso di una conferenza stampa a Pescara in cui si è parlato della festa della rivoluzione, d'annunzio torno a Pescara che nei giorni scorsi ha animato il capoluogo adriatico riscuotendo un grande successo di pubblico. All'incontro con i giornalisti hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il consigliere regionale Guerino Testa, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il titolare della società Pomilio Blum Franco Pomilio e il giornalista Alessandro Sanzoni. Ho ancora nelle orecchie il rumore scrosciante degli applausi di migliaia e migliaia e migliaia di cittadini e ho ancora gli occhi stanchi per la lettura di tutti i quotidiani nazionali e la visione, anche grazie a voi ovviamente, di tutti i TG nazionali e di decine di spettacoli di approfondimento che hanno ricollocato un'impresa di fiume in quella che è stata, un grande evento del secolo scorso con al centro un uomo eccezionale di nome Gabriele D'Annunzio che in tutto il mondo e in tutta Italia viene studiato, analizzato e approfondito. Penso che l'Abruzzo e non solo abbiano molto apprezzato questa iniziativa. Io penso che sia stato approfondito in tutti gli aspetti ciò che è stato a fiume e continueremo a farlo con l'edizione dell'anno prossimo con i cento anni della carta del Carnaro e anzi è bene che si approfondisca e si analizzino quei fatti perché è la storia della nostra nazione e del nostro continente. Ripeto, se poi vogliamo riposizionare D'Annunzio in una polemica ideologica, ormai siamo 30 anni indietro. Io so che tanti cittadini contribuenti, migliaia di cittadini contribuenti, alla fine di 10 giorni di iniziative con oltre 30 manifestazioni di vario titolo hanno solo chiesto perché dovesse terminare e non continuare. Gabriele D'Annunzio è attuale. L'esperienza di fiume è stato un momento in cui popoli che si sentivano oppressi da grandi potenze economiche si ritrovavano a fiume che era vista come una piazza di libertà in cui discutere tant'è vero che le esperienze andavano dalla destra nazionalista al socialismo rivoluzionario cioè era un luogo in cui si parlava di come migliorare la condizione degli uomini e delle donne e cosa che se si continuasse a fare anche oggi non faremmo nulla di male.